Sono Gianna, della Società per la Biblioteca Circolante, e sto per leggere l'inizio del libro più famoso di Douglas Adams, Guida galattica per gli autostoppisti. Procedo con la lettura. Lontano, nei dimenticati spazi non segnati nelle carte geografiche dell'estremo limite della spirale ovest della galassia, c'è un piccolo e insignificante sole giallo. A orbitare intorno a esso, alla distanza di 149 milioni di chilometri, c'è un piccolo, trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, le cui forme di vita, discendenti dalle scimmie, sono così incredibilmente primitive che credono ancora che gli orologi da polso digitali siano un'ottima invenzione. Questo pianeta ha, o meglio aveva, un fondamentale problema. La maggior parte dei suoi abitanti era afflitta da una quasi costante infelicità. Per risolvere il problema di questa infelicità furono suggerite varie proposte, ma queste per lo più concernevano lo scambio continuo di pezzetti di carta verde, un fatto indubbiamente strano, visto che essere infelici non erano i pezzetti di carta verde, ma gli abitanti del pianeta. E così il problema restava inalterato. Quasi tutti si sentivano tristi e infelici, perfino quelli che avevano gli orologi digitali. Erano sempre di più quelli che pensavano che fosse stato un grosso errore smettere di essere scimmie e abbandonare per sempre gli alberi. E c'erano alcuni che arrivavano a pensare che fosse stato un errore perfino emigrare nella foresta e che in realtà agli antenati sarebbero dovuti rimanere negli oceani. E poi, un certo giovedì, quasi duemila anni dopo che un uomo era stato inchiodato a un palo per aver detto che sarebbe stato molto bello cambiare il modo di vivere e cominciare a volersi bene gli uni con gli altri. Una ragazza, seduta da sola a un piccolo caffè di Rickmansworth, capì da un tratto cos'era che per tutto quel tempo non era andato per il verso giusto. E finalmente comprese in che modo il mondo sarebbe potuto diventare un luogo di felicità. Questa volta la soluzione era quella giusta. Non poteva non funzionare e nessuno sarebbe stato inchiodato ad alcunché. Purtroppo però, prima che la ragazza riuscisse a raggiungere un telefono per comunicare a qualcuno la sua idea, successe una stupida, quanto terribile, catastrofe. E di quell'idea non si sape mai più nulla. Questa non è la storia della ragazza. È la storia di quella stupida, quanto terribile, catastrofe. E di alcune delle sue conseguenze. È anche la storia di un libro. Un libro intitolato Guida galattica per gli autostoppisti. Un libro non terrestre e mai pubblicato sulla Terra. E che, fino al momento della terribile catastrofe, era completamente ignorato dai terrestri. Tuttavia, si trattava di un libro notevolissimo. In effetti, era probabilmente il libro più notevole che fosse mai stato stampato dalla grande casa editrice dell'Orsa minore, della quale pure nessun terrestre aveva mai sentito parlare. Ma non è soltanto un libro notevolissimo. È anche un libro di enorme successo. Più popolare di Costruitevi la seconda casa in cielo. Più venduto di altre 53 cose da fare a gravità zero. E più controverso della trilogia filosofico sensazionale di Olon Culfid. Anche Dio può sbagliare. Altri grossi sbagli di Dio. E... ma questo Dio, insomma, chi è? In molte delle civiltà meno formaliste dell'orlo esterno est della galassia, la guida galattica per gli autostoppisti ha già soppiantato la grande enciclopedia galattica, diventando la depositaria di tutto il sapere e di tutta la scienza. Perché, nonostante presenti molte lacune e contenga molte notizie spurie, o se non altro alquanto imprecise, ha due importanti vantaggi rispetto alla più vecchia e più accademica enciclopedia. Uno, costa un po' meno. Due, ha stampata in copertina, ha grandi caratteri che ispirano fiducia, le parole. non fatevi prendere dal panico! Ma la storia di quel terribile, stupido giovedì, la storia delle sue straordinarie conseguenze e la storia di come quelle conseguenze siano indissolubilmente legate al detto libro, comincia in modo molto semplice. La casa sorgeva su un lieve rialzo, proprio all'estremo limite del villaggio. Era isolata e dava su un'ampia distesa coltivata di campagna. Era una casa di nessun conto. Aveva circa trent'anni, era di mattoni, quadrata, bassa, con quattro finestre sul davanti la cui grandezza e proporzione non erano proprio studiate per piacere all'occhio. L'unica persona che considerava speciale quella casa era Arthur Dent, e per un semplice motivo, che casualmente quella era la casa in cui abitava. Vi abitava da circa tre anni, fin da quando, cioè, vi si era trasferito da Londra, città che lo rendeva nervoso e irritabile. Anche lui, come la casa, aveva trent'anni. Era alto, aveva capelli neri ed era sempre inquieto. Quello che lo irritava di più era il fatto che la gente seguitava a chiedergli per quale ragione era così irritato. Arthur Dent lavorava per una radio locale che, come lui diceva sempre ai suoi amici, era molto più interessante di quanto essi, probabilmente, pensassero. E lo era in effetti, visto che la maggior parte dei suoi amici lavorava in pubblicità. La notte del mercoledì aveva piovuto molto forte, e il viottolo era pieno d'acqua e fangoso. Ma il giovedì mattina il sole splendeva chiaro e vivido sulla casa di Arthur Dent. Splendeva per quella che era destinata a essere l'ultima volta. Arthur, infatti, aveva appena saputo che il Consiglio Comunale aveva deciso di abbattere la sua casa per farci passare al suo posto una tangenziale. Alle otto di mattina di giovedì Arthur non si sentiva molto bene. Si svegliò e tutto intontito, si alzò e si mise a vagare per la camera dal letto. Apri la finestra, vide un bulldozer, infilò le ciabatte e con passo pesante andò in bagno a lavarsi. Mise il dentifricio sullo spazzolino, si lavò i denti, eccetera eccetera. Lo specchio che usava per farsi la barba era fuori posto e rifletteva il soffitto. Arthur lo risistemò e nel farlo divide riflesso per un attimo un secondo bulldozer al di là della finestra del bagno. Sistemato lo specchio, Arthur si fece la barba, poi si sciacquò e andò in cucina a cercare qualcosa da mettere sotto i denti. Riempì la cuccuma d'acqua, aprì il frigorifero, prese il latte e il caffè e sbadigliò. La parola bulldozer vagò nella sua mente per un attimo alla ricerca di eventuali collegamenti. Il bulldozer che si vedeva dalla finestra della cucina era particolarmente grande. Arthur lo fissò. Giallo, pensò e tornò in camera dal letto per vestirsi. Passando dal bagno si fermò a bere due bicchieri d'acqua. Cominciò a sospettare di stare smaltendo una sbornia. Ma come mai? Si era obbliacato la notte prima? Evidentemente sì, pensò di nuovo. Si guardò un attimo allo specchio. Giallo, pensò di nuovo, e andò in camera dal letto. Si fermò un attimo a riflettere. Gli venne in mente il pub. Oh sì, proprio il pub. Vagamente si ricordò di essersi arrabbiato. Arrabbiato per una faccenda che doveva essere importante. Ne aveva parlato con la gente. Ne aveva parlato a ruota libera con la gente che stava al pub. Gli parve di ricordare. Gli tornarono in mente gli sguardi vitrei delle altre persone. La faccenda riguardava una tangenziale. Ed era una faccenda che lui aveva appena scoperto. Nei canali di informazione più riservati era nota già da mesi, anche se sembrava che nessuno ne fosse mai stato informato. Ridicolo. Ma si sarebbe risolta da sola, pensò Arthur. Nessuno voleva quella tangenziale, e il consiglio non aveva niente cui appigliarsi per far passare la cosa. Sì, la questione si sarebbe risolta da sola. Dio! Ma che terribile sbornia si era preso! Arthur si guardò allo specchio dell'armadio e tirò fuori la lingua. Gialla? Pensò. La parola gialla? Continuò come prima a vagare nella sua mente in cerca di eventuali collegamenti. Quindici secondi dopo, Arthur uscì di casa e si sdraiò davanti al grosso bulldozer giallo che stava avanzando lungo il viottolo del suo giardino.